ed eccoci qui finita la partita lecce che batte genoa 1 a 0 incredibile in lecce ragazzi migliore partenza ad esempio di tutti i tempi e che partenza direi mamma mia uda n come cacchia si chiama per loro ci metto migliore in campo vaskerz e gudmonson genoa davvero poca roba sinceramente c'è poco gioco e oggi era anche un video che per la maggior parte del tempo e quindi davvero male anche qui si vede l'under 2 e mezzo e il no goal e quindi come la previsione presa anche questa si avanza domani bene così direi lecce addirittura seconda 11 punti mamma mia mamma mia incredibile nel frattempo stava da anche un'occhiata al palermo palermo ragazzi mamma mia incredibile il palermo quello che ha fatto stasera al palermo se ti importa e perde una zero all'ultimo secondo contro il cosenza incredibile posta che voi sapete che scadini ho impiato qui questi risultati inizia che 0 a 0 monoconizza 0 a 0 incredibile gol invece 0 a 0 altra serataccia direi con risultati alquanto strambi e quindi niente vittoria ampiamente meritata quella del lecce forse arrivata un po tardi ma però ampiamente meritata lecce c'è un buon gioco anche secondo me anche buoni giocatori che secondo me in futuro potrebbero fare una buona carriera come con kristensen eccetera e quindi niente puntamento a domani per quanto riguarda la serie a e sempre 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 forza roma grazie